Bene, cominciamo. Siamo usciti da, dai che ti mostro io, prima cosa c'è, diciamo, c'è qualcuno ci viene qua da laterale, c'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è Grazie. Guarda, io solo prendo leva, mi ha detto prima qui e... e basta, e basta, io faccio brutto questa cosa, adesso vi reagisco. Guarda, si fai, hop, andiamo qui, hop, 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 hop. E basta, hop, 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 hop. E vengo qui a fare una volta. E basta qui, di qui, di qui, di qua. E basta, ma fate questo in modo velocissimo, per quello... Attento come metti, come metti i bracci, ancora una volta, poi girano, ogni tanto gli avversari E tutti scappano, opp, vedi, scappano, io vengo quando ti scappi, pam, pam, e c'è venuto qui, come io ho qui, ah, ma un lì, a me, o tu, sbali rimanenti, aga ci sono gamba, gamba, o tu da sova vai e usi tutta sua zilocità, che tu hai già visto, Il lupato, si, vedi, poi, da qui, c'è bella cosa, quando, prendono, tu, tu, poi, 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 te lo confia, che ti ho visto ma io ho fatto tanti modi questo c sittitolo, ah quindi io, quando Vedi, si prende qui, io piantiamo, rompo, quando torno, rompo e tu torni, tu torni, tu contro l'orio, Vedi . P給 it. Sì, D significati, non lo pot spilled, vada. Non 농ielmo, non ne vedi. Va al zero, proprio, bloccato. Sì. E uno, e poi ancora uno, quando mi controllo movediamo così. Quindi io vado, pam, 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 Grazie a tutti.